ciao a tutti ragazzi sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale oggi vi voglio far vedere il regalo che mi ha mandato un ragazzo che mi segue da tempo che mi è arrivato oggi a casa in questo pacchettino qua giù dentro il pacchetto delle meraviglie perché vi giuro le cose che ci sono dentro regalo più bello una persona che mi segue da tanti anni non mi poteva assolutamente fare ovviamente vi dico il nome alessandro però il cognome anche per privacy non lo dico è altale che mi segue sul canale ormai da diversi anni e lo ringrazio veramente di cuore perché a parte mi ha regalato una cosa bellissima che non mi aspettavo ma che era già un po di tempo che ne parlavo con mia moglie e vi giuro regalo più bello non mi poteva assolutamente fare e il tutto è nato direttamente da una delle ultime anche perché non so quando uscirà sto video spero di farlo uscire quanto prima da una delle ultime domeniche ludiche in cui ci siamo messi ovviamente perché fra tante cose tabletop wargaming e cose varie ci siamo messi a parlare di stampanti 3d ci siamo messi a parlare un po di stampe in 3d che ora le principali per quanto hanno ancora prezzi medio alti ma nemmeno tanti perché nemmeno tanto perché poi ora vi vado a descrivere si va a stampare comunque con la plastica in fdm o si va a stampare anche con la resina quindi stampanti a filamento in plastica o se no a getto di resina list non hanno ancora prezzi abbordabilissimi però se ci pensate una stampante in resina abbastanza buona competitiva tipo la lgo mars per farvi un esempio costa dai 250 ai 300 euro ragazzi è il prezzo che ci comprate una playstation quindi sì mi sento di dire che sono bene o male alla portata di tutti o comunque i prezzi sono molto calati senza dilagare troppo se era lì che si parlava appunto di stampa in 3d e l'ho fatta vedere anche in live quindi andatevi a vedere se non erro l'ottava o la nona domenica ludica se era lì che si parlava e a fine live giustamente mi ha detto io c'ho una stampante in 3d a filamento fdm se vuoi quindi in plastica stampa in plastica se vuoi ti stampa qualcosa mi piacerebbe insomma per farti un regalino insomma un pensierino e io lì per lì perché in questo periodo qui sono particolarmente fissato con warhammer 40.000 ma non che mi ci sono fissato da come ora i giochi spaziali chi mi conosce lo sa mi sono sempre piaciuti sì adoro il fantasy però se dovessi mettere fantasy e spaziale sci-fi in una scala da 1 a 10 metterei il fantasy 4 punti e 6 lo sci-fi perché ovviamente mi piace alien perché ovviamente mi piacciono le navi spaziali e soprattutto il gioco battle fleet gothic non quello uscito per computer ovviamente il gioco di miniature anni 90 primi del 2000 della games workshop che poi hanno fatto una sola edizione l'hanno tolto dal commercio mi sarebbe piaciuto averlo perché mi piacciono appunto le navi spaziali poi sono bellissimi farò vedere un pochino di immagini mentre parlo flotte dell'imperium flotte degli astartes flotte di tirani di flotte degli orchi e ognuno aveva il suo stile di navi che erano veramente bellissime e se che altalets mi ha detto guarda coridan se ti posso fare un regalino dimmi qualcosa da stamparti e te lo manda a casa e io ho detto guarda a me piacerebbe da morire visto che il mio esercito preferito di warhammer 40.000 sono gli adeptus astartes in particolar modo gli space marine del capitolo ultramarine io li adoro i puffi blu sì che gli ho detto mi piacerebbe la battle barge che è la nave ammiraglia della flotta degli ultramarine scusate degli space marine e ho detto mi piacerebbe avercela non me ne ha stampata una me ne ha stampate due ovviamente ha preso un progetto da tingiverse pencil gratuito l'ha stampata tutta quanta a pezzi perché ovviamente le cose stampate a pezzi mantengano anche più dettagli è normale fa meno fatica la stampante 3d a stampare un pezzo unico o stamparlo frammentato in varie parti va anche più col filamento nell'attenzione nella precisione del dettaglio sì che mi ha mandato queste due navi stampate tra l'altro belline da morire non mi aspettavo una qualità del genere non è la perfezione gli dovessi dare un voto 8 su 10 però ragazzi veramente non mi aspettavo che una stampante insomma abbastanza economica come prezzi andasse a fare delle stampe del genere in plastica e l'ha fatto veramente bene ora vi faccio vedere però non contento Altalec non è che mi ha mandato le scatoline con dentro le due battle barge degli ultramarine ma ci ha messo qualcos'altro dentro il pacco una cosa che assolutamente non mi aspettavo da morire Alessandro Altalec ha una ditta che ci lavora su queste cose poi se ho detto una cavolata ho capito male Altalec fammi un presente nei commenti comunque ha mandato queste due scatoline che ora vi faccio vedere dove praticamente dentro ci sono i due modelli delle battle barge dovrebbero essere come dimensioni si va sugli 9-10 cm erano quelle le scale di Battlefield Gothic e me la stampate e vi faccio vedere dentro ovviamente sono divise a pezzi poi visto che siamo ancora nel periodo coronavirus mi ha mandato delle mascherine di quelle chirurgiche oh sembra una cavolata ma grazie veramente di cuore anche perché l'ultima volta ci ho fatto una fila di 45 minuti per andarla a prendere in farmacia vedete ma stampato come vi dicevo le battle barge tra l'altro divise molto professionalmente ci ha messo anche una cosina per imbottire insomma per evitare che si rompano a parte è plastica abbastanza dura e resistente e direi che come dettaglio assolutamente ci siamo questo è il corpo della nave ovviamente tutta quanta la struttura ma anche la parte frontale a prua e i cannoni laterali che ora vi faccio vedere comunque questo è il corpo di una battle barge stampata in fdm degli space marine degli astartes e devo dire la verità l'unico punto dove ha perso leggermente ma ragazzi è normale sono i cannoncini che vedete che hanno un pochino spuntato leggermente ma lì si parla di millimetri un lavoro millimetrico quindi sommariamente alla fin fine ha fatto veramente veramente un bel lavoro i cannoni laterali invece sono venuti perfetti questi qui sono i cannoni che vanno fissati sui lati a babordo e tribordo praticamente da cui fanno fuoco la potenza principale della battle barge che ricordo essere l'ammiraglia della flotta degli astartes per meglio dire la nave più potente insomma che possono avere le space marine questo è il cannone il muso di prua con i cannoni laser che ci hanno davanti i thruster dietro per dare la spinta alla nave e in un video in un prossimo video ve la farò vedere ve le farò vedere tutte e due montate e colorate così col primer e tutto quanto vedrete come vengono finite mi ha mandato questa cosa qua giù bella imbottita quando l'ha vista mia moglie ha iniziato a fare no vabbè no vabbè ma davvero no ma non ci credo no ho detto oddio boh cosa mi ha mandato ho aperto questo pacchetto che c'era dentro e ragazzi mi ha mandato guardate là il logo del canale stampato in 3d col logo mio cj coridan jade vedete col jolly roger con i capelli lunghi e guardate tutta quanta la cornice intorno fatta a catena cioè veramente bellissimo ragazzi era vi giuro era già qualche mese che ne parlavo con mia moglie sarebbe bella ce l'ho per metterlo dietro anche durante i video questo qui sarà argomento di un prossimo video dove mia moglie lo andrà a colorare e appunto poi ogni volta che si farà i video si metterà sempre in bella vista cioè ragazzi regalo più bello io penso non me lo potesse fare quindi ragazzi in conclusione vi giuro questa qui è la cosa più bella più bella il logo del canale stampato in 3d più non una battle barge ma due e devo dire la verità rispetto alle foto sono molto meglio dal vivo perché a quelle che mi ha mandato appunto altalets perché hanno ora nei cannoncini un pochino hanno perso comunque se dovessi dargli un voto 8 su 10 non me l'aspettavo mai da una stampante a filamento invece ha fatto dei dettagli assurdi ne sono contentissimo e quindi grazie di cuore altalets veramente regalo più bello te fidati ti potevi ingegnare 20 anni regalo più bello non me lo potevi fare e con questo spero anche di iniziare una nuova serie di video sul canale perché mi piacerebbe portarvi anche molta roba stampata in 3d quindi comunque roba sia in plastica che in resina mi piacerebbe moltissimo mostrarvi appunto tante cose nuove fatte con le stampanti in 3d quindi grazie altalets fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io veramente sono no al settimo cello di più quindi grazie 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 veramente di cuore ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti